erano tempi diversi con nemici diversi 60 uomini i migliori messi contro più di 500 soldati nemici la loro missione cacciarli da un ospedale civile e salvare i poveracci rimasti all'interno riescono a tenere duro per tre giorni ma i nemici sono troppi di quei 60 ne restano 15 ormai sono spacciati e nemico usa evacuano l'ospedale con il favore della notte mandando avanti soltanto uno dei loro uomini tutti gli altri tornano in prima linea appostandosi sotto i cadaveri dei loro compagni su di loro lì in attesa gocciola il sangue dei morti la sabbia incrosta la loro pelle li trasforma segnandoli per sempre appena il nemico si avvicina quei 14 emergono dalla sabbia erano come cacciatori invisibili alla preda pronti ad avventarsi sui nemici inermi finite le munizioni passano ai coltelli e dopo i coltelli passano ai bombini quando la sabbia torna a posarsi solo un nemico è sopravvissuto viene trovato nel deserto smarrito traumatizzato agli altri racconta di aver visto uomini talmente potenti e minacciosi da sconfinare nel sovrannaturale li chiama fantasmi è successo per davvero così dice la leggenda dai papà non crederai a queste storie sì sì su torniamocene a casa andiamo svelti una scossa vostra madre ne aveva una paura matta ancora per un po sentiremo delle scosse di assestamento comincia ad alzarsi il vento papà torniamo a casa meglio controllare che sia tutto a posto papà che succede non è un terremoto che stai dicendo entrate in casa e restateci io vado a prendere il sottone ma papà giallo e basta vieni Logan che starà succedendo di qua Logan vieni qui fuori non è sicuro dentro di chi parlava cos'è Odin? dai non possiamo morire qui vieni è bloccata aiutati ok 3 2 1 vai controlla Odin riscontro positivo sul test di fuoco ricevuto specialista Mosley calcolo traiettoria di fuoco Baker sono arrivati andiamo payload qui controlla Odin pronti a ricevere controlla Odin andiamo incontro ai nuovi arrivati roger portellone C shuttle in sequenza d'approccio finale payload 10 metri rotazione 5 metri payload specialista Mosley portellone C pronto contatto radio SMI ritrazione ricevuto payload pressurizzazione non vedo l'ora di tornare a casa quanto è passato tre mesi payload attracco confermato siete arrivati perfetto 2 2 2 2 3 4 4 6 Odin, ripetere contatto. Questo, ripeto, ero rilasciato. Controllo Odin in mania del nemico. Che vengono oggi! Calle-ia contro l'Odin, ci attaccano! Attenzione! Houston, sono i federali! La tregua è saltata! Controllo Odin, modalità di fuoco attivata. Non è una simulazione. Non devono impossessarsi di Odin. Controllo Odin, federali nel modulo di Puffa. Becker, occhio, ce ne sono altri! Preparazione salva uno. Versaglio, Los Angeles, agganciato. San Diego, agganciato. Phoenix, agganciato. Versaglio, Houston, agganciato. Versaglio, Miami, agganciato. Conferma appuntamento, bersaglio in corso. Vittime previste, oltre 27 milioni. Sto trasparando! Trasmettono nuove coordinate alle salve. Due, tre e quattro. Houston, istruzioni! Controllo Odin. Non c'è scelta. Distruggeremo la stazione. Dispiace, Mosley. Lecce, Odin. Becker, uoci! Affini, dieci secondi. Tutti in un'area sicura. Il magazzino è rinforzato. Seguimi! Tra tre, due, uno. Contro l'Odin. Contro l'Odin, ti ricevete! Houston! Qui in Mosley! Sono qui con me! Becker, oh mio Dio. Ok, Mosley. Puntamento salve Odin, tre e quattro annullato. Ma nulla salva due. Puntamento! San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington DC. Becker, non è finita. Raggiungiamo Odin e abbattiamo. Mi sa che noi non torneremo a casa. Houston, quanti gradi fuori assi per destabilizzarlo? 23 gradi, ma i propulsori di manovra non rispondono. 23 gradi! Butteremo qualcosa nell'oceano. Aiutami ad aprire! E' un po' da, pallone in rosso. Fate saltare il carburante! Senti, dove è che è? Spara! Spara! Di te, dove è che è? Spara! 23 gradi! Sì! Basterà farlo precipitare nell'atmosfera! Specialista Mosley! Kira! Contatto perduto con il controllo Odin. Ripeto, segnale controllo Odin perduto. 2, 1, vai! Dai! Papà è andato a prendere il burgone. Cerchiamolo! Passa! Presto! Corri! Vedrai che ce la facciamo! Per quella casa! Saltiamo! Di sopra! Dobbiamo salire! Corri! Corri! Attento! Logan! Ash! Logan! Tutto bene? Ma va, stiamo bene! Ragazzi, saltate su! Vieni, Logan! Portalo su! Portalo subito su! Dobbiamo andarci da qui! Andrà tutto bene, figliolo! Resistete! Vieni! Grazie a tutti Grazie a tutti